Delio Rossi non sarà l'allenatore del Campobasso. Sabato ha fatto sapere alla società Rossoblu di non voler accettare la proposta pervenutagli qualche giorno fa. Rossi si è detto onorato assieme al suo procuratore e ha ringraziato il presidente Rizzetta e l'intera dirigenza del capoluogo, sottolineando di aver gradito la corte da parte dei lupi e di una piazza che l'avrebbe accolto a braccia aperte. Ma non se ne farà nulla, il trainer riminese volerà in Arabia accettando un'offerta che molti definiscono faraonica. Diciamo pure che è stato bello sognare in grande, ma la certezza è che il club metterà sotto contratto un mistero importante, preparato e soprattutto con grande voglia di vincere. In partenza si è sempre pensato di ingaggiare un allenatore giovane e rampante e naturalmente preparato a livello tattico. Il tutto prima che si aprisse l'affare Rossi. Non è un mistero che Rizzetta fosse indirizzato su un profilo di questo tipo e molto probabilmente sarà questa la strada che si batterà, senza dimenticare che nell'otto restano nomi esperti del calibro di Eziorino Capuano e Piero Braia. Se però si dovesse parlare di probabilità, i nomi più caldi al momento sono due, sono entrambi giovani. Continua a interessare molto infatti Marco Marchionni, col quale c'è stata una chiacchierata e c'è molta stima tra le parti. Ha guadagnato molte posizioni in una ipotetica scala Antonio Boucher, trainer che nella passata stagione ha guidato la Vibonese in Serie D facendo oltre 70 punti nel girone dominato dal Trapani. Diversi lo ricordano da calciatore indossare la maglia dell'Empoli, di cui è stato anche tecnico della primavera e ha vinto uno scudetto. C'è anche il nome di Greco della Torres che ha guidato i Sardi giunti secondi in classifica nel girone B.